buon pomeriggio a tutti ovunque voi siate e ci ascoltate in questo interessantissimo webinar di oggi pomeriggio sui biosimilari questo è un webinar di accademia dei pazienti accademia dei pazienti è il ramo italiano di opati e opati è un progetto europeo che si occupa della formazione dei pazienti in ambito di sviluppo delle medicine e abbiamo la fortuna di lavorare come piattaforme di avere una piattaforma italiana per cui in italia eupati si è costituita come associazione accademia dei pazienti e porta avanti l'idea di avere il progetto eupati in italia ma anche di tante iniziative rivolte ai pazienti quindi con un linguaggio su misura per i pazienti e anche di interesse per i pazienti che a volte insomma l'interesse dei pazienti è un po' diverso rispetto a quello dei clinici quindi è importante anche avere una voce del paziente e quindi questo webinar di oggi organizzato da accademia dei pazienti vuole esplorare è il secondo webinar che vuole esplorare esplorare un po' il mondo di quello che sono i generici questo è stato l'argomento nel primo webinar e oggi invece l'argomento dei biosimilari è un argomento che ovviamente per noi pazienti è molto importante soprattutto per chi come me viene da una patologia dove i biologici sono molto importanti e quindi lo sono anche i biosimilari quindi diciamo che oggi vogliamo cogliere questa opportunità per illustrare un po' a chiunque ci ascolta che cos'è il mondo dei biosimilari io sono appunto Paola Kruger sono un paziente esperto eupati quindi vuol dire che ho fatto il corso europeo appunto di upati che è l'obiettivo anche di accademia dei pazienti e il mio scopo di oggi qua è proprio di fare il paziente appunto io vengo dalla patologia che la sclerosi multipla sono stata diagnosticata nel 2010 da allora mi sono molto interessata alla patient advocacy ho fatto il corso eupati e da quando mi sono laureata con il corso eupati nel 2016 lavoro molto in ambito dei pazienti oggi questo mio ruolo è quello di fare un po' da moderatrice e anche di magari dare contributo dal punto di vista del paziente ma ovviamente chi mi aiuterà in questa in questa avventura di oggi sono due illustrissimi ospiti che ora vi presenterò e che veramente sono gli esperti per quanto riguarda i biosimilari allora alla mia destra io ho il professor Pierluigi Canonico che è professore di farmacologia dell'università del piemonte orientale e capo dipartimento medico già presidente della società italiana di farmacologia coinvolto a livello internazionale nel processo di valutazione dei farmaci anche se non a livello istituzionale il primo italiano ad occuparsi di biosimilari dal 2006 alla mia sinistra invece ho il professor sazzi puttini professore di reumatologia direttore dell'unità complessa dell'assst ospedale fate bene fratelli sacco di milano autore di numerosi lavori sui biosimilari in reumatologia e tra i principali gestori dei registri osservazionali sui farmaci biosimilari biologici che si chiamano gisea e lorein quindi oggi sono diciamo molto felice di poter affrontare con loro questi temi molto interessanti per i pazienti prima di iniziare però voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che potete assolutamente inviare le vostre domande se guardate il vostro schermo davanti a voi del webinar vi accorgerete che in alto c'è un segno un punto interrogativo se cliccate su quest'icona potete inviare le vostre domande in diretta che noi raccoglieremo e che ovviamente leggeremo più tardi in modo da rispondere alle vostre domande in diretta quindi vi ricordo di mandare tutte le vostre richieste da adesso durante tutto il webinar a questo punto vorrei iniziare proprio con l'argomento biologici e biosimilari la prima domanda che mi viene spontanea e che quindi rivolgo al professor sarzi puttini è che cos'è un medicinale biologico partiamo dalla base benissimo intanto vorrei ringraziare di questo invito perché anche per me è una bellissima occasione quella di fare una chiacchierata con un esperto con un esperto come il professor Canonica e in un ambito diciamo relazionale che riguarda i pazienti su un argomento molto importante per noi reumatologi che è quello ovviamente della scelta del farmaco in un ambito che è molto variegato e soprattutto con farmaci costosi che ovviamente hanno un carico di costo per il sistema sanitario nazionale ma che ovviamente modificano in maniera molto rilevante la qualità di vita dei nostri pazienti per cui l'idea di discutere insieme su che cosa è meglio fare o su che cose i biosimilari ci possono aggiungere credo che sia un argomento che mi riguarda prima persona anche della pratica clinica ma riguarda un po tutto il mondo di chi si occupa di malattie monomediate di malattie oncologiche in cui questi farmaci possono essere utilizzati. È chiaro che il concetto di farmaco biologico è abbastanza semplice è ovviamente la produzione di sostanze farmacologicamente attive che vengono prodotte da cellule di organismi viventi questo per differenziali dai farmaci prodotti per sintesi chimiche che sono quelli a cui siamo abituati che in qualche modo riflettono quello che si era detto l'altra volta sempre in questo corso euparti c'è il rapporto tra farmaco chimico e generico ecco in qualche modo il farmaco biologico biosimilare riprende questo concetto dualistico ma con delle grandi differenze perché ovviamente la complessità farmacologica dei farmaci biologici faccio anche dei biosimilari non rende possibile la uguaglianza di natura chimico fisica e credo che poi il professore pianonico che è un grande farmacologo chiarirà meglio di me questo concetto. È ovvio che l'aspetto dell'estrazione di farmaci biologici è un concetto che in medicina c'è ormai da cent'anni inizialmente parlo già dell'inizio del secolo nel 1920 si era cominciato a estrarre dei farmaci come l'insulina dai bovini e dai suini e ad esempio si era cominciato a estrarre i fattori ad esempio del complemento ottavo nono dal sangue intero per i pazienti emofilici ad esempio dal cadavere si estraeva l'ormone della crescita per i soggetti affetti dell'analismo ovviamente queste sostanze proteiche naturali avevano dei limiti prima di tutto la dimensione dell'estrazione relativa per cui non erano sicuramente sufficienti per il far bisogno e ovviamente la disponibilità era modesta ma secondo soprattutto la purificazione di queste proteine era ancora un po' diciamo si vuole dire primitiva tant'è che molti dei pazienti affetti da emofilia che sono stati curati con queste proteine estratte naturalmente hanno si sono infettati ad esempio col virus dell'epatite B e C perché ovviamente la purificazione di queste proteine era molto più difficile e ovviamente non si poneva al riparo dal rischio di infezioni soprattutto di rari e soltanto soltanto nel 1970 con l'avvento dell'ingegneria genetica delle tecniche di anari combinante che siamo stati in grado di sintetizzare queste proteine partendo da organismi viventi che non fossero ovviamente quelli di estrazione naturale questo ci ha ovviamente consentito ad esempio di produrre attraverso l'isolamento del gene ad esempio dell'insulina focalizzando in un plasmide batterico l'insulina umana di produrla diciamo in quantità molto maggiori così come ovviamente il miglioramento e l'affinamento delle tecniche ci ha consentito di identificare delle cellule che noi chiamiamo i bridomi in cui sostanzialmente era possibile sintetizzare degli anticopi monoclonali specifici contro delle proteine delle citochine o dei recettori cellulari che in qualche modo fossero ed esprimessero il meccanismo che determinava una malattia ad esempio immunomediata e quell'argomento è piuttosto complesso ma semplice nella sua comprensione ovviamente noi possiamo avere dei farmaci che targettizzano una specifica ad esempio citochina parlo ad esempio del tmf alfa o dell'interleuchina 1 o dell'interleuchina 6 che sono in grado di bloccare l'attivazione di questa citochina perciò di spegnere il processo infiammatorio questo è avvenuto attraverso appunto l'utilizzo e la sintesi di questi anticorpi monoclonali oppure di sostanze che bloccassero i recettori che in qualche modo erano responsabili dell'attivazione del processo infiammatorio ecco perché da un punto di vista della nostra pratica clinica come reumatologi l'avvento dei biotecnologici è stato una rivoluzione copernicana ci ha consentito di passare da farmaci che in qualche modo ci accompagnavano semplicemente nella disabilità crescente del nostro paziente perché non eravamo in grado di avere armi che spegnessero la malattia invece ad armi che targettizzano le citochine le sostanze responsabili dell'attivazione del mantenimento del processo infiammatorio questo ovviamente ci ha consentito di essere molto più proattivi nell'ambito della malattia ci ha portato ad esempio a modificare addirittura i criteri diagnostici per essere precoci nella diagnosi perciò per poter intervenire prima che il via dei danni reversibili questo è stato un grande passo che è stato determinato proprio dall'avvento di molecole che ci consentissero di spegnere il processo della malattia o di mantenere il paziente una remissione prolungata e questo ovviamente si paga con una migliore qualità di vita e con una reperdita di funzione che è il motivo per cui siamo qui qui facciamo i medici per cui cerchiamo di dare il meglio al nostro paziente l'avvento dei biosimilari è semplicemente un anno in più che ne abbiamo in mano perché questo ci consentirebbe di disporre gli stessi farmaci o farmaci molto simili a quelli che abbiamo avuto in questi ultimi vent'anni ma ovviamente a meno il prezzo e anche con una maggiore disponibilità per un numero crescente di pazienti ai quali ovviamente possiamo offrire questa disponibilità allora mi sembra molto chiaro che l'avvento dei biologici sia stato un avvento molto importante per i medici ed è stato spiegato molto chiaramente certo per i pazienti è un pochino più complesso capire qual è il meccanismo d'azione mi chiedo se il professor canonico vuole aggiungere qualcosa su diciamo il medicinale biologico qualcosa per farci aiutarci a comprendere magari un pochino meglio come funziona appunto il biologico ma penso che il professor sarsi puttini sia stato molto molto chiaro in genere il farmaco biologico parlo del farmaco biotecnologico può essere un farmaco che mima cioè quello che è un prodotto naturale ad esempio noi abbiamo un'insulina biotecnologica che utilizzeremo nelle condizioni dei pazienti in cui c'è una carenza di insulina così per l'ormona della crescita così per esempio per l'eritroprietina e potrei fare tantissimi altri esempi di sostanze di natura peptidica o glicoproteica che possono essere prodotte come farmaco biologico e biotecnologico poi c'è un approccio diverso sempre di farmaci biotecnologici cioè prodotti con queste procedure di DNA ricombinante da parte di cellule particolari che ha un approccio diverso nel senso utilizziamo degli anticorpi cioè delle sostanze che bloccano delle sostanze endogene che presumibilmente sono in eccesso duraturo in una particolare fase della malattia in questa in questa maniera utilizzando delle sostanze che bloccano cioè degli anticorpi monoclonali noi otteniamo lo spegnimento transitorio duraturo di una determinata malattia quindi potrei definire che il vantaggio di molti dei farmaci biotecnologici è quello di avere un bersaglio specifico che si considera alterato in una determinata malattia e quindi noi andremo a colpire meglio e specificamente la malattia nei suoi sintomi oppure nella sua evoluzione risparmiando almeno in parte tanti altri tessuti che non sono direttamente coinvolti quindi anche da un punto di vista di sicurezza generale con chiaramente facendo ti tratta di farmaci bisogna sempre fare molta attenzione rispetto a molti dei farmaci che definiamo small molecules di sintesi chimica hanno dei target specifici anche i farmaci di sintesi chimica quindi questo è un poco il meccanismo d'azione dei farmaci biotecnologici. Ecco mi sembra molto chiaro ecco anche dal punto di vista del paziente il vantaggio proprio quello di poter andare su delle specifiche molecole e quindi essere più precisi nella cura della patologia e quindi detto questo che cos'è un medicinale più similare? Allora innanzitutto innanzitutto anch'io buon pomeriggio a tutti ringrazio per l'invito che è estremamente interessante estremamente stimolante vorrei che fosse chiaro una cosa prima di qualsiasi discussione gli obiettivi dei ricercatori sicuramente gli obiettivi dei clinici e gli obiettivi delle autorità regolatorie è di perseguire il bene dei pazienti quindi fondamentalmente di offrire ai pazienti delle molecole delle sostanze sicure che possano chiaramente migliorare la qualità di vita dei pazienti e l'evoluzione della malattia. Ci tengo a dire questo perché non vorrei che fosse frainteso lo scopo dei dio similari in una funzione essenzialmente economica nonostante la funzione economica è sicuramente importante. Allora che cosa succede? Quando una molecola come tutte le cose che noi maneggiamo durante la giornata raggiunge la fine della copertura brevettuale che è stabilita in un determinato numero di anni per una molecola per qualsiasi molecola per qualsiasi farmaco sia di natura chimica sia di natura biologica e biotecnologica c'è la possibilità viene data la possibilità che altre industrie possano cominciare a produrre quel farmaco. Quindi si tratta i biosimilari sono dei farmaci che come generici possono essere immessi in mercato al momento in cui c'è la cessazione della copertura brevettuale. Qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è innanzitutto nella complessità della molecola, del small molecule rispetto al farmaco biologico e biotecnologico e soprattutto nell'approccio di tipo regolatorio perché l'EMA soprattutto perché ha affrontato il problema prima dell'agenzia americana perché la copertura brevettuale in America aveva una durata superiore a quella dei farmaci in Europa, ha affrontato in maniera estremamente seria questo problema già a partire da 6-7 anni prima che la copertura brevettuale si esaurisse. E quali sono le principali differenze? Quindi il farmaco prodotto dopo la cessazione della copertura brevettuale ha preso in Europa il nome di biosimilari che a volte può essere un nome che genera qualche confusione. Per esempio negli Stati Uniti si è parlato dei follow on biologics, cioè quindi di quelli che seguissero i biologici. Le motivazioni sono molteplici e a volte più confondenti per la scelta di questo nome. però ha affrontato seriamente tutti i problemi e vi do due indicazioni molto importanti. Innanzitutto l'EMA, l'agenzia europea dei medicinali, che ancora speriamo che possa arrivare in Italia, a Milano ha realizzato che il problema è un problema sicuramente anche come immagine estremamente complessa e la prima cosa che ha deciso è che i farmaci biotecnologici e quindi anche i biosimilari avessero un processo di approvazione centralizzata. Che significa questo? Che è l'EMA che autorizza sulla base di determinati studi che vedremo l'approvazione di farmaci. Non è possibile ad esempio che un farmaco biotecnologico e quindi anche un farmaco biosimilare venga autorizzato solo in Italia o in Francia o in Inghilterra o in Germania e dopo con un processo che si chiama di mutuo riconoscimento, i farmaci biotecnologici così come i farmaci oncologici come i farmaci delle malattie neurodegenerative e dei farmaci delle malattie immunomediate hanno bisogno di un'approvazione centralizzata. Questo ancora una volta a tutela e a garanzia della salute del paziente. Questo è un dato molto importante. Allora come si procede per definire un farmaco biosimilare una volta? Questo è molto importante perché data la complessità della molecola si è tentati di partire da un concetto che già era stato messo in evidenza e risolto sempre dall'agenzia insieme, dall'agenzia europea americana, dall'agenzia americana, l'FDA, la Food and Drug Administration, dall'EMA, allora EMEA europea e dall'agenzia giapponese. Perché i farmaci biologici in genere, biotecnologici, subiscono in corso, nel corso degli anni, dei processi di miglioramento che sono dovuti evidentemente al miglioramento delle nostre conoscenze nel campo delle biotecnologie. Avevano stabilito dei criteri per cui quando un'azienda modifica il sito di produzione, come modifica la procedura, dello stesso farmaco sempre originatore, cosa che avviene regolarmente, doveva rispondere a dei requisiti particolari. Bene, questi stessi requisiti, queste stesse modalità che erano valide per il farmaco originatore sono state allargate addirittura perché un farmaco biosimilare fosse approvato e avesse questi grandi requisiti. Uno di qualità, i test di qualità dei farmaci biosimilari sono in un numero notevolmente superiore rispetto a quello che avrà dovuto dimostrare l'originatore. Proprio perché si vuole essere sicuri della qualità del prodotto. Poi ci sono degli studi sicuramente di farmacologia preclinica e clinica che dimostrano che il meccanismo è lo stesso, che gli effetti sono lo stesso, ma il punto cruciale che differenzia questo, ad esempio dai generici, che perché un farmaco possa essere approvato, devono essere condotti degli studi molto importanti da un punto di vista clinico, seppure più ridotti evidentemente rispetto al farmaco originatore, che testimonino l'efficacia e la sicurezza dei farmaci, ma soprattutto il cosiddetto esercizio di comparabilità, la comparabilità assoluta nei confronti del farmaco originatore. Ultima cosa, perché i farmaci, e questo penso potrà essere ripreso dal professor Sarsi Puttini, che riguarda in genere tutto il problema dei farmaci biotecnologici e che bisogna stare molto attenti alla immunogenicità, cioè alla capacità di determinare da parte dell'organismo che riceve tutti i farmaci biologici, quindi biotecnologici, di creare delle reazioni che possono portare a eventi avversi, ma anche a perdita di efficacia. Bene, una delle caratteristiche più studiate nel limite, insomma chiaramente, del consentito da un punto di vista temporale per i farmaci biosimilari, è la valutazione dell'immunogenicità, sia con test in vitro, sia con test in vivo, nel corso della sperimentazione. Questo tutela ancora una volta dei pazienti, poi il lema attiva anche delle procedure post-autorizzative di efficacia e di sicurezza per controllare sempre, ma questo riguarda tutti i farmaci biotecnologici, sia che siano originatori, sia che siano biosimilanti. Bene, abbiamo toccato un argomento molto, molto importante che è quello della sicurezza, e quindi la mia prossima domanda, professore, è i biosimilari sono sicuri, sono efficaci e hanno la stessa qualità dei farmaci biologici? Beh, in parte il professor Camergo ha già risposto a questa domanda. Intanto bisogna dire che i farmaci biologici ormai ci sono da più di vent'anni, e in questi vent'anni abbiamo imparato a gestirli meglio, abbiamo imparato anche delle tecniche di estrazione di questi farmaci molto differenti, ad esempio si è passati da farmaci in cui la sintesi di aminoacidi, che era di natura murinica, cioè di natura animale, a prodotti totalmente umanizzati o umani, e questo ovviamente ha ridotto quello che era uno dei problemi di cui ha accennato anche il professore canonico, che era quello dell'immunogenicità. Più noi rendiamo ovviamente il nostro anticorpo monoclonale, la nostra proteina di fusione umana da un punto di vista del contenuto, della struttura, meno il nostro organismo sarà in grado di non riconoscerla e di produrre eventualmente anticorpi contro lo stesso, diciamo, prodotto che noi utilizziamo da un punto di vista terapeutico. Questa è già una grande innovazione e ovviamente questo l'abbiamo appreso soprattutto dal primo dei farmaci che abbiamo avuto a disposizione, che era l'inflixima, che ovviamente ci ha dato alcuni problemi in questo senso, ma che ci ha anche fatto capire che ovviamente in questo percorso di umanizzazione dell'anticorpo anti-TNF ci consentiva ovviamente di ridurre di molto quelli che sono i meccanismi di immunogenicità e perciò anche di scarsa risposta clinica che possiamo e che abbiamo osservato negli anni con alcuni di questi farmaci. Ma non solo questo, ovviamente il problema è anche di valutare se il farmaco funziona in tutte le indicazioni per le quali noi utilizziamo il farmaco e il biooriginator. Ecco, nella stesura del riconoscimento, della messa in commercio di un farmaco biosimilare ovviamente si è entrato in un concetto che è quello di valutare con grande attenzione i dati preclinici, un po' come diceva il professor Canonico, in modo che la qualità e la sintesi e tutti gli aspetti preclinici garantissero assolutamente la qualità del prodotto. Ma in ambito clinico si è deciso di applicare quello che noi chiamiamo l'estrapolazione dei dati per cui di fare alcuni studi registrativi sulle principali indicazioni. Se questi davano la conferma della risposta clinica di estrapolare anche ad altre indicazioni l'utilizzo di questo farmaco e questo in qualche modo non significa che il farmaco non è stato studiato in maniera sufficiente, significa semplicemente che la similarità del farmaco non necessitava di ulteriori studi. Questo in qualche modo è stato contestato da alcune società scientifiche anche da alcuni miei colleghi perché ritengono che ovviamente gli studi registrativi devono essere fatti per tutte le indicazioni anche per i farmaci biosimilari. Ovviamente questo gradualmente sta avvenendo ma soprattutto quello che noi stiamo facendo adesso è la raccolta attraverso studi osservazionali come quello dei registri, di cui parlavo prima di Gisele Oren per l'Italia ma abbiamo molti registri osservazionali che raccolgono i dati a livello anche internazionale per comprendere sia l'efficacia e la durata dell'azione di un farmaco biosimilare sia anche l'eventuale tossicità ma soprattutto la tossicità o l'evento avverso che sia raro che perciò non possa essere identificato in un trial ovviamente registrativo che per motivi anche diciamo di struttura del trial stesso è ovviamente limitato a un numero relativo anche se alto di pazienti. I risultati che derivano sia dagli studi clinici sia degli studi registrativi sia degli studi osservazionali si tranquillizzano in maniera rilevante. Non ci sono sostanzialmente segnalazioni di mancato effetto del farmaco, non ci sono segnalazioni di eventi avversi superiori a quelli che sono quelli già identificati negli studi dei bio originator e questo ovviamente ci rende consapevoli che abbiamo un'arma in più a disposizione che sono i farmaci biosimilari ovviamente ad un costo differente. Chiaro che la necessità del farmaco biosimilare non è soltanto legata a un problema di costo ma questo è utile per due motivi. Primo perché ci consente di trattare più pazienti con le stesse risorse economiche, secondo perché da un certo punto di vista l'avvento di farmaci meno costosi spinge anche le aziende che producono i farmaci originator a ridurre il costo dei farmaci stessi. Questo ovviamente ne traiamo un vantaggio complessivo perché possiamo avere il farmaco a disposizione di un maggior numero dei pazienti senza incrementare il costo complessivo, il budget che abbiamo a disposizione. Se posso aggiungere qualcosa a proposito della sicurezza e anche della procedura dell'estapolazione perché è uno dei grandi oggetti di critica. Allora per quanto riguarda la sicurezza abbiamo già indicazioni dei farmaci e degli anticorpi monoclonali ma dobbiamo ricordare anche un altro aspetto che farmaci biosimilari diversi, parlo dell'ormone della crescita, del filgastrim, dell'eritropoietina, dell'insulina glargina, ormai sono una decina di anni nel mercato europeo perché parliamo di Europa quando noi parliamo di biosimilari secondo il concetto europeo diverso e il discorso che può avvenire negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone. Noi parliamo del nostro contesto che è europeo. Bene, l'utilizzazione di questi farmaci biosimilari, di farmaci biotecnologici, sebbene si trattasse di molecole sicuramente più semplici da un punto di vista strutturale rispetto agli anticorpi monoclonali, ha testimoniato l'assoluta sicurezza, l'assoluta comparabilità in termini di efficacia e di sicurezza con gli originatori. Per quanto riguarda il discorso dell'estrapolazione, non è un'estrapolazione automatica perché questo è nel senso che se per esempio l'EMA che valuta farmaco per farmaco capisce che un farmaco che ha molteplici indicazioni ha delle indicazioni che richiedono delle postologie diverse, quindi delle dossi diverse e che probabilmente agisce in diverse patologie con un meccanismo d'azione diverso, allora chiede che la sperimentazione venga a essere condotta in una patologia e in un'altra patologia. Se ritiene invece, chiaramente con un team di esperti da tutti i punti di vista, farmacologi, clinici, regolatori, che il meccanismo è lo stesso, la posologia è praticamente la stessa, allora si procede a specifiche sperimentazioni e all'allargamento, quindi all'estrapolazione, a tutte le altre indicazioni per cui il farmaco originatore ha l'approvazione. Bene, Gussi, mi sembrano dati molto importanti per i pazienti delle rassicurazioni importanti. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa proprio da paziente, perché mi è capitato di visitare dei siti di produzione di farmaci biosimilari e devo dire che è veramente impressionante il livello di sicurezza, proprio di grande attenzione per tutto quello che è il processo produttivo, quindi devo dire che la sensazione che io ho avuto è veramente di una grandissima qualità e questo diciamo che per noi pazienti è sicuramente un dato importante. Quindi detto questo, ma i medicinali biosimilari sono i generici dei medicinali biologici? Ma la risposta è sì e no, nel senso che come i generici, i biosimilari, si introducono alla cessazione della copertura brevettuale e in questo sono simili ai generici. È chiaro che come ha detto il professor Sarsi-Puttini, la struttura è una struttura molto diversa e quindi proprio in considerazione del fatto che è una struttura molto più complessa, chiaramente il processo di autorizzazione è un processo molto molto più complesso, molto più serio, molto più costoso, perché mentre i generici, come avrete avuto modo di vedere la volta scorsa del precedente webinar, si basano su degli studi, insomma, che sono degli studi fondamentalmente di bioequivalenza, qui abbiamo una complessità di studi notevoli, obbligatori di studi clinici, condotti per tempi adeguati, quindi è una procedura estremamente più complessa e come dicevo ha bisogno di un'autorizzazione centralizzata, cosa che i farmaci generici non hanno. Poi, e questo è simpatico, lo dico da farmacologo, adesso sta per uscire da brevetto un farmaco che si utilizza per l'osteoporosi, che è un peptide, insomma, 34 aminoacidi, in cui è possibile avere il generico, perché può essere fatto con sintesi chimica o il biosimilare. Allora, questo aumenta la complessità di tipo regolatorio e anche la complessità dell'utilizzo da parte dei clinici. Certo. Allora, la mia prossima domanda, la mia curiosità è perché sono stati sviluppati e approvati medicinali biosimilari? Beh, un po' praticamente ne abbiamo già parlato, cioè è chiaro che l'uscita dalla logica vero-rettuale di un farmaco consente ad altre aziende farmaceutiche di produrre un farmaco che ha delle caratteristiche analoghe e nel caso dei biooriginator, essendo complessi polipeptici di sintesi complicata, diciamo, ovviamente non si è usato i termini di generico, ma si è usato i termini di biosimilare, perché noi l'abbiamo già analizzato. Questo cosa comporta? Comporta che abbiamo a disposizione un maggior numero di farmaci, sia originali sia biosimilari e facciamo una maggiore difficoltà comunque nell'affrontare il percorso terapeutico del nostro paziente, perché ovviamente da un lato siamo guidati dall'efficacia del farmaco, più dall'idea di mantenere in trattamento il paziente che risponde in maniera adeguata a un farmaco anche dentro se costoso. Dall'altro avendo a disposizione i biosimilari che hanno un miglior costo, ma che da un punto di vista della letteratura probabilmente ci garantiscono lo stesso risultato, è possibile magari poterli sostituire per poter spendere un pochino di meno e avere una disponibilità di farmaco per tutti i pazienti che lo richiedono. Per cui uno dei grandi problemi dello specialista che ha a disposizione una serie di farmaci molto maggiori rispetto a quello che aveva ad esempio 10-15 anni fa, è quello di coniugare l'aspetto del clinico all'aspetto anche del costo e anche della safety. Per cui una scelta complessa da un punto di vista clinico è che in qualche modo non trova tutti noi d'accordo nella strategia. Anche le nostre società scientifiche esprimono dei pareri differenti perché ovviamente tutti noi abbiamo in mente il bene del paziente. Per cui la prima risposta che diamo è quella di poter mantenere la continuità terapeutica se un farmaco ovviamente funziona bene. La seconda è quella che siccome abbiamo ad esempio un budget che dobbiamo rispettare e il numero di pazienti è crescente, anche la risposta è di pensare che ovviamente se ottimizziamo meglio le nostre risorse siamo ad esempio in grado di trattare più pazienti perciò di avere un risultato di una popolazione migliore. Questo è uno dei grandi questioni che ci poniamo tutte le volte che ragioniamo anche in ambito della società scientifica se è giusto spingere per una quantità terapeutica o se è giusto invece focalizzarci anche sull'utilizzo di farmaci benopostosi. Uno dei problemi che abbiamo affrontato ad esempio in ambito della società scientifica cui faccio parte della reumatologia è quello ovviamente di come utilizzare i biosimilari ad esempio sicuramente nei pazienti naif, cioè nei pazienti che non hanno mai utilizzato i farmaci biologici non c'è nessun problema ne utilizzare e iniziare un trattamento con un biosimilare. Differente è il problema quando il paziente lo sta già facendo magari per anni e ovviamente l'idea di sostituire un farmaco con un biosimilare analogo pone qualche problema sulle quali non tutti sono d'accordo e ovviamente è una problematica che affronteremo nel prossimo periodo, nei prossimi anni, anche legata a quelli che la letteratura ci produrrà, cioè i dati scientifici non soltanto sugli studi, abbiamo detto registrativi o di strappolazione dei dati ma anche su quello che apparirà dai nostri registri osservazionali che ci danno ovviamente delle indicazioni meno precise ma più attente su quello che è l'andamento della storia naturale della malattia stessa. Quindi infatti l'avevamo messa anche come domanda nel profitto per chiederla a questo punto è ma quindi chi è già in cura con un medicinale biologico di riferimento deve passare a un suo biosimilare? Beh no, questa è una domanda di difficile risposta. Eh bene sì. Ecco allora io chiaramente, siccome una domanda a cui io darei una risposta personale e poi una risposta diciamo più generale. Nel mio centro, siccome noi riteniamo che il farmaco biosimilare sia sostanzialmente un farmaco che è equivalente al farmaco originale per qualunque farmaco biologico che noi in questo momento abbiamo a disposizione tecnicamente stiamo sostituendo i pazienti che sono stabilizzati con il farmaco biosimilare. Perché questo? Perché ovviamente motiviamo, e questa è una scelta che noi facciamo con il paziente, il paziente sia all'idea che il farmaco ovviamente funziona allo stesso modo ma soprattutto che il farmaco costi di meno e che ci dia in questo modo garanzie per poter trattare più persone. Questo ovviamente è una decisione che condividiamo con il paziente e credo che questo sia un messaggio molto importante, cioè l'idea che il farmaco non è genericato per cui diamo qualunque cosa abbiamo a disposizione ma che si ragioni con il paziente su una corretta strategia ma che ovviamente riguardi anche gli altri pazienti, quelli che in qualche modo hanno la necessità di essere trattati a parità di budget. E credo che questo sia un processo di educazione anche del paziente nostro molto rilevante. È ovvio che non tutti i miei colleghi sono d'accordo, anche le società scientifiche tendono e premono a una continuità terapeutica e da un certo punto di vista capisco che quando tu dai un farmaco originator che funziona, che porta il paziente a una situazione di stabilità, di remissione, anche la sostituzione col biosimilare possa essere non gradita né al paziente né al medico stesso se non è spiegata nei termini corretti. Ma io credo che i dati della letteratura che man mano abbiamo a disposizione ci autorizzano a questa tipologia di scelta. E credo che ci vuole anche un certo coraggio da un punto di vista medico nel modificare alcuni comportamenti che molte volte sono di tipo psicologico. Cioè tu hai a volte l'impressione che se gli dai a un tuo paziente un farmaco biosimilare, tu gli dai un farmaco di serie B. Questo non è vero, gli dai un farmaco che è la stessa identica cosa, ha un costo minore e spesso anche di migliore qualità perché ovviamente il processo di sintesi di questi farmaci, anche nell'ambito dei biosimilari, è cambiato in questi vent'anni. E adesso ovviamente abbiamo farmaci che probabilmente hanno dei meccanismi di sintesi, di purificazione molto migliori rispetto a quelli che avevamo vent'anni fa. Questo mi sembra un punto molto importante per i pazienti. E prima di proseguire con la prossima domanda volevo ricordare a tutti quanti che potete appunto mandare le vostre domande cliccando l'icona con il punto interrogativo sopra il vostro schermo, potete mandarle durante tutto il webinar e noi le leggeremo in diretta e risponderemo in diretta. Ora al professor Canonico faccio una domanda proprio da farmacologo. Come sono sviluppati e approvati medicinali biosimilari? Ma in effetti a questa domanda ho già risposto in gran parte e in gran parte ha risposto anche lei perché in effetti sono sviluppati in industrie altamente qualificate, in strutture veramente altamente qualificate che fra l'altro sono le strutture che normalmente producono sia farmaci originatori sia farmaci biosimilari. Devo dire che soprattutto in questi ultimi anni con i biosimilari soprattutto degli anticorpi monoclonali stiamo assistendo a un processo molto interessante che quasi tutte, non tutte, le principali aziende farmaceutiche multinazionali producono sia degli originatori sia dei biosimilari il che significa che automaticamente riconoscono che il biosimilare non è un farmaco di serie B come diceva ma è un qualcosa che possa aiutare il sistema ad essere sostenibile. Quindi per quanto riguarda vengono prodotti con le procedure che vengono a essere utilizzati esistono delle biobanche particolari da cui poi origina il clone cellule che produrrà il farmaco biotecnologico in grandissime quantità tenete in considerazione un altro vantaggio molto teorico ma che si è verificato in passato la possibilità che più aziende abbiano a disposizione un determinato farmaco perché? è successo in passato quando un'unica azienda produce una determinata molecola che l'industria la sede di produzione ha avuto dei problemi non è stato più in grado di produrre il farmaco non ha avuto dei problemi di qualità e a questo punto tutti i pazienti trattati non potevano essere più trattati avere a disposizione più aziende che producono la stessa molecola molecola insomma che è assolutamente comparabile oltre a chiaramente stimolare la concorrenza che è sempre un fatto positivo in termini economici garantisce anche la possibilità che sul mercato queste situazioni di shortage cioè di impossibilità di produzione che per una ragione o per l'altra si possono verificare non esistono più e addirittura a volte anche i siti di produzione diversi della stessa casa di originatore ha dei siti di produzione in Europa altri siti negli Stati Uniti che hanno delle caratteristiche diverse cioè sono dei biosimilari rispetto all'altro questo è un altro aspetto che garantisce evidentemente la qualità dei biosimilari come vengono approvati abbiamo visto che è una procedura centralizzata in Europa poi ripeto l'FDA ha delle procedure diverse il Canada ha delle procedure diverse ma devo dire che il lema da questo punto di vista è stata ed è molto rigorosa ed è stato un esempio rispetto a quello che si è verificato in altre realtà e quindi sono dei farmaci a tutti gli effetti di serie A io sorrido un poco quando sento un discorso biologici e biosimilari i biosimilari sono dei biologici dei biotecnologici basta allora che hanno esattamente lo stesso meccanismo d'azione quasi interamente la stessa struttura del farmaco che ha gli stessi effetti la stessa sicurezza però come diceva il professor Sarsi-Puttini l'aumento delle conoscenze continua la possibilità di avere dei registri e questo è uno stimolo molto importante la possibilità di rassicurare il prescrittore e il paziente è sempre qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione io vorrei aggiungere un commento cioè è chiaro che in questi 20 anni in cui abbiamo imparato ad utilizzare questi nuovi farmaci abbiamo anche imparato una corretta gestione del paziente cioè quello che succede ad esempio in regione Lombardia noi vediamo il paziente sostanzialmente ogni due mesi ogni quattro gli facciamo una valutazione clinimetrica il paziente ha un numero di telefono col quale ci può contattare questo ci consente da un lato di gestire meglio quelli che sono gli effetti collaterali anche severi o di dare al paziente un consiglio utile ad esempio se una donna rimane incinta se ad esempio c'è un'infezione se c'è una vaccinazione da fare ci abbiamo imparato a gestire la presa di carico del paziente che utilizza farmaci biotecnologici e questo ovviamente ci ha consentito anche di instaurare un rapporto di share con il paziente che si fida di noi per cui anche l'avvento ad esempio nella mia struttura di farmaci biosimilare è stato vissuto una cosa traumatica ma come un criterio di scelta condivisa perché loro si fidano di noi ecco questo meccanismo cioè la creazione di un rapporto di condivisione è molto importante nel paziente cronico perché migliora l'aderenza migliora la fiducia del paziente nei confronti della struttura e rende la struttura anche in grado e noi lo facciamo ogni sei mesi di adeguare la sua decisione terapeutica perché in qualche modo è comune a tutti i medici tutti gli operatori che lavorano nella struttura stessa ecco perché è molto importante che di fianco alla disponibilità di questi farmaci che sono ovviamente un impegno economico rilevante però non ci dimentichiamo che ci vogliono anche le persone ci vuole anche l'aspetto umano cioè chi in qualche modo poi aiuta il paziente a gestire meglio questi percorsi terapeutici questi cambiamenti ad esempio il paziente che abbia un flare il paziente che deve cambiare una terapia non ci sono soltanto ovviamente i biosimili sono tutta un'area di trattamento di strategia terapeutica che è molto più complessa rispetto a una volta ma che ovviamente rende il medico e il paziente insieme responsabili della strategia terapeutica questo è fondamentale questo ci aiuta anche rispetto ad altre realtà dove c'è meno attenzione a queste cose ad avere secondo me meno effetti collaterali o a gestirli ad esempio in maniera molto migliore certo la partnership di cura è sicuramente un elemento fondamentale detto tutto quello che ci siamo detti fino adesso mi piacerebbe guardare le ultime due domande estrapolare un attimino quello che è l'esperienza del paziente singolo ma voglio parlare di pazienti a più ampio spettro quindi l'effetto che può avere i biosimilari per tutti i pazienti quindi sono domande che pongo entrambi la prima appunto è proprio si dice che i farmaci biosimilari possono aiutare la sostenibilità del sistema sanitario nazionale perché? cominciò io ma dunque io direi una cosa non dobbiamo mai dimenticare un semplice concetto che è quello che meglio tu tratti più fai diagnosi percoci più spendi cosa significa questo? che quando noi siamo in un sistema in cui abbiamo l'opportunità di essere ottimali dal punto di vista della diangi e del trattamento ovviamente non spendiamo di meno dal punto di vista dei costi diretti spendiamo molto di più ecco questo è quello che non dobbiamo dimenticarci per cui quando noi creiamo non so le cliniche per le early arthritis per la diangi precoce significa che noi vediamo molti più pazienti rispetto a quelli che eravamo prima e abbiamo molti più pazienti che sviluppano l'indicazione per l'utilizzo dei farmaci biotecnologici ecco perché è rilevante e importante che noi siamo pronti a questa operazione di miglioramento diagnostico e di precocità della terapia ma anche attenti alle risorse perché ovviamente soprattutto in un sistema sanitario pubblico come il nostro i soldi non sono infiniti e questo concetto della spesa deve entrare nella testa di chiunque lavora nel sistema sanitario nazionale compresi i medici che molto spesso si rifiutano di ragionare in termini economici pensando che non sia il loro compito ma il loro compito non è soltanto quello di curare il paziente è anche quello di soffrire al meglio delle risorse che il sistema ci mette a disposizione senza questo diciamo cambiamento mentale del paziente che a mio avviso deve partire già dall'università cioè questi sono meccanismi insegnamenti che non devono essere tralasciati nel corso di laurea ma che devono far parte del tuo diciamo della tua capacità che non può essere semplicemente etica nel corso del paziente ma deve essere anche etica nel corso del sistema che garantisce l'assistenza è fondamentale senza questo noi non garantiamo la sostenibilità del sistema sanitario nazionale ma garantiamo solo per alcuni e credo che questo non sia quello che noi tutti vogliamo ma io non ho molto da aggiungere a quello che ha detto il professor Sarsi Puttini vorrei partire da un concetto che è un vanto italiano cioè noi abbiamo un servizio sanitario nazionale universalistica e dobbiamo fare di tutto perché rimanga tale ed è sempre più difficile obiettivamente è sempre più difficile perché per fortuna è sempre più difficile io all'inizio del secolo cioè nel 2001 ero nella commissione unica del farmaco e lì in effetti si veniva qualche farmaco innovativo qualche cosa nuova ma insomma in effetti era facilmente gestibile adesso ci troviamo in una situazione in cui quotidianamente abbiamo nuovi farmaci per malattie prima non curate abbiamo nuovi farmaci per malattie rare e orfane abbiamo nuovi approcci rivoluzionari sentiamo parlare dei cartise delle terapie cellulari delle cellule staminali nelle fistole del cron quindi terapie estremamente costose allora questo è un fatto positivo sicuramente però dobbiamo garantire l'universalità del trattamento e siccome le risorse sono obiettivamente finite dobbiamo avere tutti quanti noi una visione sociale pazienti medici professionisti che ci porti a garantire il meglio possibile per tutti sempre partendo dal concetto di qualità di sicurezza che è l'obiettivo principale mi ha molto colpito due anni fa un incontro con un mio collega spagnolo veramente catalano perché ci tiene a dirlo in questo momento che mi diceva noi non abbiamo problemi con i biosimilari non abbiamo problemi con l'equivalenza terapeutica perché perché abbiamo vissuto un periodo talmente drammatico con la crisi economica che per cui c'erano licenziamenti per i riposti non c'è la possibilità di comprare farmaci che adesso nessun medico e nessun paziente non si rendono conto che c'è la necessità che dobbiamo operare al meglio per tutti con le risorse che abbiamo noi speriamo di avere più risorse noi speriamo di ottimizzare il sistema noi speriamo però cerchiamo tutti quanti di fare qualcosa che ripeto ancora una volta con la garanzia dell'efficacia e della sicurezza che è il primo obiettivo ci permetta la utilizzazione il trattamento di più farmaci possibili di più malati possibili in un servizio sanitario universalistico devo dire che da pazienti questo è un messaggio sicuramente fondamentale che condivido appieno se posso aggiungere il mio personale aneddoto devo dire che io invece ho avuto la fortuna di collaborare un po' di tempo fa con un medico indiano un epatologo che si occupa dei trapianti di fegato e la cosa che a lui sembrava assolutamente incredibile è che in Italia tu puoi andare a fare un trapianto di fegato in un ospedale italiano non paghi niente e ti trapiantano il fegato per lui era una cosa veramente incredibile ma mi ha fatto toccare con mano quanto appunto il valore dell'universalità del nostro sistema sanitario sia un valore che veramente sia da da coltivare per tutti noi siamo tutti allineati clinici pazienti chiunque opera in questo settore è veramente guarda io non so se lo fanno anche dove lavori tu io sicuramente lo fanno in Lombardia e in alcuni ospedali che nel momento delle dimissioni del paziente si dice noi non abbiamo idea in effetti dei costi cioè quanto lo Stato ha pagato per te secondo me questa è una iniziativa estremamente importante per far capire perché noi siamo abituati vabbè tanto ce lo dà gratis ma questo è un costo è un costo notevole io penso che sia fondamentale che il paziente capisca e condivida quanto costa il sistema sanitario perché a volte veramente se tu non lo dici non se ne rendono conto noi cerchiamo da questo punto di vista di non di colpevolizzare il paziente ma di renderlo diciamo cosciente di quello che è la sua fortuna nell'avere un centro che lo segue e che può dargli e garantirgli tutta una serie di strategie terapeutiche ma anche di attenzione al momento in cui compare l'effetto collaterale in cui compare la difficoltà e che se ne prende a carico credo che questo per il paziente sia importante anche la condivisione del costo perché in questo modo si rende conto che le tasse che pagano non è che si buttano via ma servono proprio per garantire a tutti anche a chi è meno fortunato da un punto di vista della capacità di guadagno della questione lavorativa un'assistenza che tutti noi nel concetto proprio universalistico di quello che hai detto prima tu pensiamo sia fondamentale sia un valore a cui non possiamo rinunciare infatti le ultime due domande diciamo la prima verteva proprio sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale la seconda ma abbiamo ampiamente parlato adesso tra l'altro è l'ora anche di rispondere alle vostre domande però ci tenevo visto che l'abbiamo qua e magari ribadire questo concetto che è importante quindi la sostenibilità del servizio sanitario nazionale ma dall'altra parte l'accesso alle cure per i pazienti quindi diciamo per i pazienti ribadiamo ancora questo concetto magari sento entrambi le vostre valutazioni quanto questo dato anche di avere dei biosimilari sia importante per l'accesso alle cure dei pazienti sì potrà rispondere sicuramente meglio di me il clinico perché io ho una fortuna sono medico ma non mi trovo a dover affrontare i problemi insomma che il clinico deve risolvere allora è stato già accennato in precedenza chiaramente il numero per fortuna ancora una volta l'aumento dell'età media aumenta chiaramente il numero di pazienti che potenzialmente possono essere trattati a risorse che sono praticamente finite ancora quindi la possibilità eventualmente di avere dei risparmi utilizzando il biosimilare oppure utilizzando l'originatore che abbassa il prezzo al di sotto del biosimilare perché questa è un'opzione che dobbiamo tenere in considerazione permette chiaramente di poter trattare un numero di pazienti superiori ma dà anche la possibilità che nello stesso reparto si possano utilizzare eventualmente per pazienti selezionati delle terapie innovative che altrimenti se non ci fossero determinati risparmi potrebbero non essere utilizzate perché non si ha la disponibilità economica in ultimo ed è una cosa a cui avrà già accennato il professor Sarsi Puttini e questa è la cosa a cui tengo molto è chiaro che nel momento in cui si abbassa il prezzo di queste terapie anche le nuove terapie dovranno riferirsi a prezzi più bassi quindi prezzi più contenuti quindi prezzi più accessibili per chiaramente per gli ospedali per il medico e quindi per il malato vorrei anche sottolineare che nei nostri centri ad esempio di reumatologia noi ovviamente attiviamo soltanto un concetto di utilizzo dei biosimilari ma anche delle altre tecniche come ad esempio la de-escalation lo spacing in cui possiamo ad esempio mantenere lo stesso risultato clinico usando meno farmaco questo ovviamente è un altro dei meccanismi in cui noi possiamo in qualche modo risparmiare risorse senza danneggiare senza determinare alterazione del paziente secondo concetto vorrei però anche ovviamente sottolineare che molti delle dell'innovazione che ci sono state in questi ultimi vent'anni in reumatologia sono dovuti anche alla ricerca che le aziende farmaceutiche fanno per cui io posso comprendere che una certa quota di quello che noi paghiamo da un punto di vista del costo di un farmaco sia per la ricerca perché ovviamente molte delle nostre delle attività che si svolgono in ambito della medicina e della ricerca sia di base sia clinica sono frutto anche di investimenti delle aziende farmaceutiche non dobbiamo vedere semplicemente come clienti dell'ospedale ma anche come co-partram nella migliorare la qualità di vita del nostro paziente nell'avere e nel mettersi a disposizione di armi che una volta non avevamo per cui questo concetto in qualche modo credo che vada sottolineato per cui è giusto ovviamente ridurre il costo del farmaco e spendere di meno ma anche è importante ricordarci che gli investimenti che si fanno per produrre nuove molecole nuove farmaci per risolvere alcune patologie hanno dei costi e la ricerca ovviamente ha un costo che sia pubblico che sia privata e che ovviamente nell'utilizzare questi farmaci abbiamo anche tra virgolette un diritto dovere di spendere alcuni di questi soldi nell'ambito proprio della ricerca e credo che sia un altro dato che deve essere condiviso con il paziente che deve sapere che alcune cose come i costi alcune alcune diciamo gestioni complesse delle nostre delle nostre aree di ricerca delle nostre farmaci che noi abbiamo disponibili nascono da questa interazione integrazione tra ricerca di base tra ricerca in ambito farmaceutico che ovviamente non sono nemici tra di loro ma sono assolutamente tuttori che lavorano in maniera coesa per garantire la qualità del servizio sanitario penso benissimo ricordo ai nostri ascoltatori che potete ancora mandare le vostre domande vi ricordo che in cima al vostro schermo c'è un'icona con il punto interrogativo che se lo cliccate poi potete scrivere la vostra domanda che ci arriverà in diretta e a cui noi risponderemo quindi vi esorto a mandare più domande possibili e di approfittare di questi esperti che stanno qui con me per potervi togliere eventuali dubbi o altre curiosità che potete avere sui biosimilari direi comunque di cominciare a vedere le domande che sono arrivate fino adesso quindi leggiamo alcune ecco la prima domanda che vedo molto vediamo se riusciamo a leggere sì sì la prima mi sembra molto interessante anche dal punto di vista femminile il biosimilare è gravidanza rischi indicazioni studi eccetera dunque questa è una domanda molto interessante a cui stiamo gradualmente determinando una risposta ad esempio i farmaci anti-TNF possono essere farmaci che si possono utilizzare anche durante la gravidanza in particolare alcuni di questi come un certo l'Izumab che hanno dimostrato che non esistono problemi diciamo di teratogenicità nell'utilizzo di questi farmaci durante la gravidanza almeno fino alla 32esima settimana chiaro che il nostro problema ad esempio dell'antiterreumatoide è soprattutto legato al metotrexate che in effetti invece è un farmaco teratogeno che va assolutamente interrotto almeno 3-6 mesi prima diciamo del concepimento dell'inizio della gravidanza perché altrimenti il rischio teratogeno è intorno al 20% gli anti-TNF sembrerebbero essere sicuri da questo punto di vista non modificare il rischio di teratogicità in effetti per cui se la malattia rimane attiva dal mio punto di vista i farmaci possono essere continuati durante la gravidanza parlando ovviamente di farmaci anti-TNF sì chiaramente posso aggiungere che non vedo delle differenze tra il biosimilare e l'originatore rispetto a quello che ha detto il professor Sarsi-Puttini anche perché il meccanismo è esattamente lo stesso perché sono state fatte chiaramente qualsiasi tipo di prova a sostegno di questo quindi tranquillità nonostante non sono stati giustamente per adesso ma neanche con l'originatore eseguiti studi clinici a scopo autorizzato ma questo insomma sono solo osservazionali prossima domanda allora quali categorie di pazienti trova indicazione nell'utilizzo dei biosimilari chi vuole rispondere beh dunque allora noi possiamo distinguere ovviamente tra un utilizzo nei naif cioè pazienti che non hanno mai fatto uso di farmaci qui nella mia struttura questi farmaci hanno un'indicazione prioritaria se non ci sono situazioni di comorbidità tale per cui non possiamo utilizzare i biosimilari di solito io uso quelli per un discorso di minor costo differente come abbiamo detto prima il concetto di utilizzare i biosimilari in un paziente in cui la malattia è stabilizzata da un certo numero di mesi o di anni in cui si decide di shiftare al biosimilare rispetto al biooriginator soprattutto per un problema di costo proprio per quello che si era detto prima il terzo gruppo di paziente è quello in cui tu fai ovviamente uno switch uno swap cioè in cui perde l'efficacia un farmaco e ovviamente ne utilizzi un altro in questo caso noi utilizziamo il biosimilare con la stessa indicazione del biooriginator cioè in relazione alla successione dei farmaci ad esempio noi adesso tendiamo a cambiare la meccanica di isolazione se un farmaco non funziona se non funziona un antitnf o usiamo l'antirecettore o cambiamo la meccanica di isolazione e ovviamente in questo per i farmaci biosimilare che abbiamo a disposizione cerchiamo di usare quelli ovviamente a meno costo sì chiaramente dipende molto dall'atteggiamento chiaramente della singola nazione per esempio in alcune nazioni si fa una gara nazionale per cui se ne sceglie soltanto uno per cui si trattano tutti i pazienti e questo non ha dato problemi in queste nazioni è chiaro che l'approccio che suggeriva il professor Sarsi Puttini è un approccio molto valido da tanti punti di vista soprattutto perché permette al clinico progressivamente di avere esperienza anche con quella molecola l'esperienza è un aspetto importante sicuramente di acquisire sicurezza certezza dell'efficacia e della sicurezza e quindi di operare le eventuali scelte con una maggiore o minore tranquillità perfetto Sì vorrei esagerare un commento che mi sembra molto importante io siccome mi riunisco con regolarità con i miei ragazzi che sono dell'ambulatorio dei farmaci biotecnologici delle terapie complesse è chiaro che l'impressione che tu hai è che man mano che maturano l'esperienza i problemi si attenuano si diluiscono ecco perché ad esempio personalmente anche quando compare un nuovo farmaco da un nuovo biologico io ho una decina di pazienti li tratto quasi subito ma non perché io voglia favorire quella di un'altra azienda ma perché acquisisi quell'esperienza che ti consente di fronte a una specifica comorbidità di utilizzare al meglio questi farmaci per cui il concetto del gruppo che in qualche modo condivide le proprie esperienze detta le linee guida all'interno della struttura soprattutto quando siamo in tanti i pazienti sono morti fa crescere tutti e questo credo che sia un altro dei meccanismi fondamentali dei nostri centri se vogliamo essere efficaci ed efficienti e attenti anche alla spesa prossima domanda abbiamo sentito parlare di descalation e spacing che cosa sono? quindi mi devo per forza riferire a lei perché ha introdotto i termini sostanzialmente se un farmaco ha una sua diciamo un suo timing cioè non so che fa l'infusione sotto tutto ogni settimana ogni 15 giorni nel momento in cui il paziente ha una sua stabilità cioè raggiunge la remissione clinica una low disertivity perché magari è un'alertia di vecchia data in cui ci sono già dei danni puoi decidere in situazioni di stabilità ad esempio dei parametri di misurazione degli indici infiammatori e dell'attività clinica di ridurre la quantità di farro che li somministri ad esempio da una settimana passi a 10 giorni o a 15 ecco questo meccanismo che in qualche modo noi consideriamo off-label perché paradossalmente se tu sospendi il farmaco sei on-label se tu riduci fai lo spacing sei off-label però in qualche modo è accettato e accettabile anche da un punto di vista clinico perché ti consente di mantenere lo stesso risultato con una minor quota di farmaco e ragionevolmente anche di ridurre quelli che sono i rischi di eventi avversi che comunque questi pazienti mantengono soprattutto in farmaci che spesso fai per tutta la vita per cui ricordiamoci sempre che il giusto equilibrio tra l'utilizzo del farmaco alla dose minima e gli eventi avversi è sempre il nostro obiettivo nei confronti della qualità di vita del nostro paziente per cui credo che siano tecniche che siano che bisogna imparare ad utilizzare io credo e ne parliamo sempre anche con i miei ragazzi non bisogna essere a cefali ma tenere sempre lo stesso dosaggio anche se uno magari è rimissibile a due anni bisogna avere il coraggio di gradualmente di essere medico cioè di decidere con il paziente cosa è meglio in questo caso anche riducendo ad esempio il dosaggio del farmaco oppure modificando la terapia a seconda del quadro del caso clinico perfetto allora nell'ottica di un disfarm sulle spese sanitarie si parla di farmaci equivalenti per i pazienti trapiantati d'organo esistono biosimilari per noi in caso affermativo si arriverà al loro utilizzo in modo sistematico allora che mi risulti non esistono biosimilari per queste indicazioni specifiche per tante motivazioni uno perché i farmaci utilizzati sono molto spesso delle small molecule e quindi avranno esisteranno dei generici e eventualmente se ne esistono di biotecnologici ancora non esistono biosimilari in caso affermativo si arriverà all'utilizzo in modo sistematico un uso chi lo sa no anche perché è una categoria un po' particolare perché anche sui farmaci generici utilizzati per prevenire il rigetto anche l'inserimento della lista di trasparenza e quindi della genericabilità a posto determinati tipi di problemi non sempre sono inseriti però poi quello che succederà non lo sappiamo prossima domanda si parla di poter effettuare ben lista si parla di poter effettuare una rinfusione sottocutanea invece della flebo mensile cosa ne pensate? adesso ci sono gli studi in corso vedremo i risultati certo come al solito questi farmaci più possibilità diciamo di utilizzo perciò dall'utilizzo orale a sottocutere a rinfusione abbiamo meglio è la praticabilità di questi trattamenti per cui io non vedo nulla di particolare ovviamente se non si modificano i meccanismi di farmacoscienti che fanno farmacodinamiche in qualche modo possono regolare differenti tipi di di vie di vie prescrittive a seconda della singola molecola sì chiaramente in questa condizione non parliamo di biosimilari ma parliamo di un'autorizzazione all'emissione in commercio completa perché evidentemente è una via di somministrazione diversa c'è molta discussione su questo aspetto che vorrei non affrontare perché è un problema molto scottante viene suggerito che molto spesso delle industrie farmaceutiche di originatore nel momento in cui sta finendo la copertura brevettuale passino alla via sottocutanea per garantirsi un io non so se questo è vero o non è vero ma è chiaro che il biosimilare deve rispettare sempre la modalità di somministrazione dell'originatore per cui è scaduta la copertura brevettuale prossima domanda questo abbiamo un po' risposto però come sono sviluppati e approvati medicinali biosimilari nella way anzi direi che il professor Caroni è stato molto illuminante da questo punto di vista e ci ha anche spiegato le differenze con l'FDA e quindi quanto l'EMA si è fatta garante e è garante veramente della qualità e del percorso di approvazione dei medicinali biosimilari quindi direi vorrei sottolineare che ci sono adesso diversi casi in cui i farmaci biosimilari non sono stati approvati dall'EMA proprio perché non davano le garanzie oppure avevano delle piccole differenze nel momento in cui avevano delle differenze non tanto di efficacia ma delle caratteristiche farmacocinetiche non è che il farmaco non veniva buttato ma non poteva essere autorizzato come biosimilare ma come molecola innovativa e quindi doveva fare la procedura completa e avere l'indicazione uno per uno insomma così a volte determinando confusione questo è un caso di eritropoglietina che hanno dei nomi particolari Z teta uno è biosimilare l'altro è originatore e si differenziano proprio perché uno è un originatore l'altro è il biosimilare con vantaggi e svantaggi vorrei anche ricordare che noi siamo ad esempio in Italia in un sistema regionalistico cioè ricordiamoci che molto spesso i farmaci approvati non sono sempre gli stessi in tutte le regioni anzi ci sono delle gare per le quali soprattutto i farmaci sono tra virgolette in competizione tra di loro per cui è possibile perché un paziente abbia alcuni farmaci biosimilare disponibili in una regione non in altri e questo ovviamente fa parte un po' del gioco di una strutturazione del nostro sistema sanitario nell'ambito di questi farmaci molto regionalistico per cui ovviamente anche i prezzi i costi c'è tutto differente da regione a regione questo ovviamente complica ancora un pochino di più le cose ma concettualmente questo è quello che il nostro Stato ha scelto cioè quello di una gestione regionale dei costi del sistema sanitario nazionale sì che devo dire è praticamente presente anche in quasi tutto il mondo insomma non è una salvo la Francia che ha un sistema nazionalistico fino a quando non lo so però ecco io ricordo sempre che in UK in Inghilterra uno è trattato in base al CAP un codice di riempimento postale in Spagna la regione l'ospedale e così quindi non ci dobbiamo spaventare è chiaro e che è auspicabile che si raggiungano delle modalità di accesso simili comuni condivise anche per garantire eventualmente la continuità di utilizzazione nello spostamento di un paziente da regione a regione assolutamente prossima domanda che cosa fare se si sospettano effetti collaterali dunque è una domanda da un milione che vedere comunque quei più similari nel senso di questo è un po' su tutti i farmaci diciamo che un po' come già spiegato prima in ogni struttura che ha una certa numerosità di pazienti con questi farmaci ovviamente c'è necessità di una struttura di supporto perché ad esempio in regione Lombardia noi ad esempio facciamo piano terapeutico per il farmaco in ospedale il farmaco viene consegnato dalla farmacia ospedaliera in altre regioni d'Italia avviene in maniera differente ma ogni paziente è sostanzialmente gestito in un centro di riferimento e al centro di riferimento deve fare deve rivolgersi nel caso si presentino effetti collaterali che possono essere correlati alla terapia in alto questo vale soprattutto per le infezioni vale anche per alcuni tipi di neoplasie e vale ovviamente per la gestione della strategia terapeutica ricordiamoci che ovviamente questi farmaci questi pazienti fanno già uno screening prima di iniziare questi farmaci soprattutto per quanto riguarda la tubercolosi le patite B e C l'HV una serie di altre patologie che ovviamente possono essere riacutizzate dalla dalla terapia con i farmaci con i farmaci biotecnologici inoltre c'è un programma vaccinale la operazione vaccinale che va tutto in considerazione che non molti di noi seguono ma che ovviamente ha ormai delle sue indicazioni e in alcuni centri ovviamente si è un po' più attenti a questo in altri si è un po' meno ma questo ovviamente fa parte del gioco fa parte della della terapia che rimane una terapia ovviamente di corte ma individuale nelle sue specificità quindi la vaccinazione prima di iniziare la terapia dipende dipende noi ad esempio facciamo un'anamnesi vaccinale nei nostri pazienti ma lo facciamo da qualche anno prima lo facevamo per cui l'epatite B è una delle cose per cui se il paziente non è vaccinato cerchiamo ovviamente di indurre la vaccinazione e l'influenza la valutiamo caso per caso l'herpes adesso vedremo cosa succede con i nuovi vaccini cioè ci sono una serie di ipotesi che però ovviamente sono legate anche al singolo caso così come anche non so lo scompenso cardiocicolatore o l'insufficienza respiratoria cioè sono tutte situazioni che ovviamente in cui si lavora in prevenzione ma che ovviamente dobbiamo essere pronti a gestire anche in ambito di patologie in atto cioè di effetti colaterali dei propri non posso aggiungere molto però ricordo che è molto importante per i medici i farmacisti e eventualmente anche i pazienti la segnalazione eventualmente di questi eventi e versi soprattutto laddove si vogliano valutare delle differenze nell'uso dell'originatore rispetto al biosimilare è importante che ci siano queste segnalazioni ben documentate perché poi la valutazione insomma dell'evento avverso viene fatto insomma in maniera oggettiva se si tratti veramente di una conseguenza o di un episodio particolare ma è importante che tutto venga ad essere adeguatamente segnalato quindi il messaggio per i pazienti è assolutamente segnalare ai medici soprattutto c'è se un medico il medico poi che deve sensibilizzare il paziente che a volte il paziente manco sa di che può manco si ricorda se ha fatto le vaccinazioni nell'infano anche questo è un po' un problema abbastanza comune quello succede spesso esatto allora perché medicinali biosimilari possono essere approvati per indicazioni per le quali non sono stati effettuati studi clinici che cos'è l'estrapolazione vabbè questo ne abbiamo esattamente la domanda perché adesso cerco di spiegare molto rapidamente l'obiettivo del biosimilare non è quello di dimostrare l'efficacia in una determinata malattia o in un'altra malattia questo è già stato dimostrato dall'originatore l'obiettivo del biosimilare da un punto di vista autorizzativo è quello di dimostrare l'uguaglianza dei effetti quindi se si presuppone che il meccanismo d'azione del determinare una terapia e la dose sia la stessa è chiaro che è presumibile che praticamente l'originatore e il biosimilare abbiano la stessa efficacia anche nelle altre indicazioni in cui non è stato sperimentato questo è stato l'assunto del lema e da questo punto di vista fermo restando che in alcune condizioni chiede la sperimentazione anche in altre malattie detto ciò è auspicabile e questo è compito delle singole società scientifiche a livello nazionale delle varie nazioni che vogliano estendere il livello di conoscenza che alle patologie in cui non è stato condotto lo studio clinico autorizzativo ma l'approccio del lema è stato quello di dire bene se in effetti è valida per una o due patologie il farmaco è lo stesso lo stesso meccanismo la stessa azione perché non dovrebbe funzionare nelle altre ci ricordiamoci che adesso molti di questi farmaci noi utilizziamo anche in patologie rare in cui sostanzialmente possiamo utilizzare in maniera indifferente dal mio punto di vista il bio originator e il bio similare il problema è che ovviamente non esistono studi in patologie rare che ci possano chiaramente far comprendere che cosa stiamo facendo e qual è l'empoint primario però i risultati molto spesso sono assolutamente significativi per cui dobbiamo anche considerare che una quota parte dei pazienti che trattiamo le trattiamo non seguendo indicazioni specifiche né indicazioni di estrapolazione ma semplicemente perché il meccanismo patogenetico ci induce a pensare che nei soggetti resistenti alle comuni terapie questi farmaci possono funzionare benissimo non so se abbiamo altre domande perché siamo coi tempi in chiusura con che criterio un medico di base prescrive un generico biosimilare il medico di medicina generale almeno nel nostro paese non ha accesso alla prescrizione dei farmaci biosimilari perché il farmaco biosimilare è un farmaco che comunque deve rispondere alla ed è in categoria di farmaco ospedaliero il file F e ovviamente deve essere prescritto dallo specialista diverso il concetto di farmaco generico quello lascio rispondere al farmacologo che è praticamente è molto semplice esiste una lista di trasparenza per cui fondamentalmente il medico dovrebbe prescrivere il principio attivo o quindi poi a livello di farmacia dovrebbero dispensare il generico a meno che il medico non giustifichi l'utilizzazione dell'originatore per particolari condizioni ed è compito del medico di giustificare una mancata utilizzazione dell'originatore oppure fondamentalmente l'altra possibilità che il farmacista dà che il paziente preferisca l'originatore paghi la differenza di tasca sua prossima domanda se ce ne sono altre vaccino antinfluenzale farmaco biologico ci sono studi in merito? non che io sappia in maniera diciamo randomizzata controllata però è una vaccinazione che si ripete tutti gli anni che sostanzialmente non presenta particolari problemi nei pazienti trattati con farmaci biologici per cui noi sostanzialmente diamo le stesse indicazioni che si danno nella popolazione generale che i nostri pazienti possono tranquillamente fare la vaccinazione antinfluenzale pur ricordando che spesso la vaccinazione non copre completamente diciamo il rischio di di patologia influenzale perché il virus può cambiare nel tempo e il vaccino può non essere a seconda di quello che utilizzi non essere completamente in grado di coprire il rischio infettivo logico determinato da questa tipologia di virus benissimo ultima domanda ne abbiamo già parlato tra l'altro ma evidentemente è un punto molto importante per i pazienti quindi magari molto brevemente ne riparliamo un attimino come spiegare ad un paziente il perché della scelta di un farmaco biosimilare al posto di uno biotecnologico nel dare la risposta sicuramente a lui vorrei ricordare che il biosimilare è un biotecnologico quindi non farei la differenza un biosimilare rispetto all'originatore professor Sarsiputini ha il condotto di ammestrare il suo ruolo io penso che sia importante condividere con il paziente questa scelta questa scelta che è ovviamente dettata dalla certezza che il farmaco biosimilare è sostanzialmente le stesse connotazioni del farmaco originator ma a un costo differente questo ci consente in un'area diciamo di universalità del sistema sanitario nazionale di mettere a disposizione risorse anche per altri pazienti credo che questo che è quello che io dico ai miei pazienti di solito colpisce sempre nel segno difficile che un paziente ti dica non sono disponibile prima di tutto perché nella nostra struttura esiste un rapporto diciamo di fiducia perché spesso sono pazienti che seguiamo da anni e secondo perché proprio nel concetto di un'università del sistema anche il paziente se viene condivisa non tanto l'idea di dargli un farmaco di serie B che non lo comprenderebbe ma di dargli un farmaco che ha la stessa funzione ma che allo stesso tempo costa di meno di aprire una sua finestra anche personale di disponibilità nei confronti di chi ha la stessa malattia che non ha il farmaco a disposizione a quel momento credo che questo sia un'ulteriore idea e ipotesi di quello che è il meccanismo fondamentale che è l'educazione del paziente alla croincità credo che anche la condivisione di questo sia un meccanismo che noi dobbiamo utilizzare e che ci aiuta a far vanturare anche il paziente assolutamente bene volevo ricordare a tutti quanti che la registrazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito di Accademia dei Pazienti e che tutte le associazioni che volessero poterne usufruire possono farlo facendo richiesta ad Accademia dei Pazienti alla mail team chiocciola accademiadeipazienti.it per questo non mi resta che ringraziare tutti gli ascoltatori il nostro panel di esperti professor Canonico professor Sanzi Puttini che sono stati veramente molto esaurienti e molto chiari in questo argomento così complesso vorrei ringraziare anche i tecnici e lo staff di Accademia dei Pazienti per aver reso tutta questa operazione possibile e averci regalato questo pomeriggio di approfondimento grazie a tutti e arrivederci al prossimo webinar grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti